Allora, io sono qua con Giorgio Giustiniani e sua moglie, che hanno due bellissimi bambini, e c'è anche il loro papà, la loro mamma, sempre qua con loro. Hanno avuto un grande problema quest'inverno con gli loro animali, guardate che spettacolo, perché morivano dal freddo. Non c'era nessuno che gli dava una mano. Un dieci giorni fa è morta una cavallina mentre veniva la luce per il troppo freddo, mentre grazie al cielo adesso, essendo migliorato il tempo, c'è un cavallino che non so se riuscite a vederlo, il nuovo nato lì dietro, e volevo adesso, finalmente siamo riusciti a far arrivare una tensa struttura dove tutte queste creaturine qua andranno al riparo, e volevo ringraziare insieme a loro le persone che ci hanno aiutato. E sono, allora, il mio official Spagna fan club. Grazie a tutti i miei amici che hanno contribuito a questa cosa bellissima. Vi ringrazio veramente, ma tanto tanto, l'Auditorium Ballet di Villa Franca, oltretutto vicino al mio valeggio sul Mincio, grazie a tutti voi. Poi all'avvocato Ugo Cerruti, grazie Ugo anche per la tua partecipazione, finalmente ha messo la manina in tasca. E poi a Franca Pritelli, grazie Franca, veramente di cuore, e a Giovanni e Luana. A tutte queste persone ringrazie, grande perché così siamo riusciti tutti insieme a far qualcosa Grazie per tutti di nuovo e per questi cavalini. Grazie. Grazie.